E adesso parliamo di coronavirus perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che per uscire dall'incubo pandemia serviranno almeno due anni. Questo arriva mentre in Italia sono attivi più di mille focolai, in Puglia la situazione resta sostanzialmente sotto controllo. I nuovi casi di positivi provengono per la maggior parte da paesi esteri. Ce ne sono stati oggi anche altri registrati come ad esempio ad Altamura, si tratta di una persona rientrata dalla Grecia. In Salento invece sui 104 positivi, 59 hanno contratto l'infezione da Covid-19 all'estero. I dettagli nel servizio. Servirebbero meno di due anni per sconfiggere la pandemia. È l'auspicio del Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Grebeyesus sui tempi necessari per sconfiggere l'epidemia provocata dal coronavirus. Oggi il Covid si muove più velocemente perché sono aumentate le connessioni ma allo stesso tempo abbiamo più tecnologie e conoscenze per fermarlo, ha detto nel corso del briefing a Ginevra sul coronavirus, ricordando che la precedente pandemia da spagnola durò proprio due anni. Parole che arrivano mentre in Italia si continuano a registrare nuovi casi di contagiati da coronavirus. L'ultimo monitoraggio settimanale realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute evidenzia la presenza di circa 1.077 focolai attivi nella settimana che va dal 10 al 16 agosto scorso. Dato confermato da Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute nella gestione dell'emergenza coronavirus, siamo ancora in grado di controllare la situazione, ha detto, perché più o meno i focolai sono mille in Italia ma se diventano duemila o tremila non riusciamo più a controllarla. In Puglia la situazione resta sostanzialmente stabile anche se si continuano a registrare nuovi casi di contagi su chi rientra dall'estero come è accaduto nelle scorse ore dove poco meno della metà dei nuovi contagiati arrivava da paesi stranieri. Tra i colpiti dall'infezione provocata dal coronavirus anche un neonato partorito a inizio agosto il piccolo tornato a casa dopo la nascita avrebbe manifestato febbre e tosse per qualche giorno sintomi che hanno spinto i genitori a rivolgersi ai medici dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti nel Barese. Lì il tampone, il risponso e il trasferimento nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Anche ad Altamura si registra una nuova positività al covid. Lo annuncia il sindaco Rosa Melodia. Si tratta di una persona rientrata dalla Grecia, è stata ricostruita la rete dei contatti e sono in corso le analisi epidemiologiche. Sale invece a 8 il numero dei positivi a Martano, comune del Salento, e la provincia di Lecce conta complessivamente 104 positivi, 59 dei quali hanno contratto l'infezione all'estero. Lo rivela il report settimanale della ASL. I paesi a zero contagi dall'inizio della pandemia oggi scendono a 20 contro i 22 della scorsa settimana, mentre il 20% dei positivi ha tra i 36 e 49 anni.